Avvocato Sciolla, secondo lei c'è interesse da parte degli investitori internazionali verso i fondi italiani oppure ci sono ancora delle limitazioni nella raccolta? No, direi che c'è un grosso interesse per l'Italia, c'è un grosso interesse per il mercato italiano e questo si riflette anche nella raccolta degli investimenti da parte di fondi non solo internazionali ma anche di fondi italiani. Questo soprattutto in ragione dei vari settori che sono molto interessanti per gli investitori in Italia tra cui il food tipicamente e anche il fashion e il luxury e anche vari altri settori di alta tecnologia in cui il nostro mercato e il nostro paese è molto forte. Grazie Avvocato. Grazie a tutti.